Buongiorno a tutti, grazie agli organizzatori, grazie ai partecipanti. Stamattina sono state dette tante cose ma soprattutto nel panel di mezzo abbiamo visto quante opportunità di conoscenza, di rapporto con nuove tecnologie, con nuove opportunità di produzione, con diverse imprenditorialità. Ci sono in questa città, in questa regione, in questo paese. Ecco, io credo che Expo, adesso che è uscito veramente dalla fase di incertezza e che è partito verso l'obiettivo di realizzazione dell'evento, stia diventando un momento di incontro straordinario per tutte queste diverse opportunità. E quindi anche per tutte le opportunità di produzione, di lavoro e di occupazione. Credo, e lo ripeto, che l'assessore De Angelis che mi ha prevenuto ha detto una cosa secondo me molto giusta, che non dobbiamo limitarci però a vedere Expo come un'opportunità senza ricordarci che poi Expo avrà una sua continuità, una sua seconda fase che è una fase che riguarderà direttamente la città di Milano, ma non solo perché la collocazione di Expo e la modalità anche con cui Expo oggi viene pensata e realizzata e così, il modo con cui stiamo approcciando al dopo Expo in realtà c'è un'apertura sia a quella che stamattina è stata chiamata l'area vasta, l'area metropolitana, sia però a tutta la regione e con un occhio all'intero territorio nazionale. Ma le opportunità sono tante. La prima opportunità è, pensate, a una città come Milano che si trova a dover fare i conti, ad esempio appunto con la sua capacità di ospitare, la sua capacità di offrire servizi per tutti coloro che vengono a visitare la grande esposizione, che possono essere servizi culturali, ma possono anche essere servizi e occasioni per rapporti di nuove attività economiche, future attività economiche, nuovi investimenti. Una città che si deve poi preparare a essere in grado, dal punto di vista anche infrastrutturale, di ricevere tutti coloro i quali domani verranno e coloro i quali stanno già cominciando a venire, perché in realtà, come già stato detto anche oggi, cioè Expo è oggi. Expo sono i diversi incontri, sono incontri con i diversi paesi, Expo sono i meeting, Expo sono le varie iniziative che stiamo organizzando oggi, che dovremo organizzare per ricevere l'incontro di tutti i paesi nel prossimo autunno e per arrivare in qualche modo a essere pronti a ricevere i paesi anche ospiti dell'iniziativa. Quindi Expo è oggi la fucina di nuove occasioni, anche dal punto di vista infrastrutturale. Non ci dimentichiamo che Milano sta chiudendo una nuova metropolitana che è M5, ne sta avviando un'altra che è M4. Sicuramente Expo ha rappresentato un'accelerazione per questa tipologia di infrastrutture e questo sta divenendo ed è divenuto occasione di lavoro, di occupazione, di nuovi investimenti. La stessa cura della città sta e produrrà questo e noi stiamo lavorando nonostante le difficoltà di bilancio e il patto di stabilità proprio per far sì che il 2014 e il 2015 siano gli anni della cura della città, in particolare il 2014 e quindi anch'essi attraverso un incremento degli appalti, delle opere pubbliche, ma in alcuni casi anche di opere che riguardano il settore privato. Ora, però l'amministrazione comunale sta in realtà prendendo un altro impegno insieme alla Regione e anche quella di capire che cosa succede al mercato del lavoro nel periodo di Expo. Abbiamo un periodo straordinario, un periodo in cui inevitabilmente sarà necessario integrare, sarà necessario aumentare il numero degli occupati in alcuni settori. Si è avviata una lunga trattativa col governo per far sì che in modo assolutamente rispettoso delle prerogative dei lavoratori, delle garanzie degli stessi, però sia possibile aprire e a questo tavolo e a questo confronto partecipano anche i sindacati all'utilizzo di forme già esistenti o di nuove forme di rapporto di lavoro che garantiscano però del personale di alta qualità, del personale motivato, del personale garantito. Quindi Expo non deve diventare, nonostante la fretta, nonostante la difficoltà, il modo per derogare o addirittura violare le normative, ma deve essere un modo anche, e sta essendo un modo, per studiare nuove modalità di rapporto di lavoro. E in questo senso è anche molto interessante perché questa esperienza può poi diventare un'esperienza che si porta a livello nazionale per occasioni simili, anche di dimensione inferiore, ma appunto che fanno dell'Italia un paese poi capace di rispondere anche appunto rispetto alle forze di lavoro che sono necessarie. A questo dobbiamo aggiungere il progetto del dopo Expo, fra un po', fra pochi minuti vi rappresenteranno i lavori che stanno facendo, gli impegni che stanno facendo, ma anche nel progetto dopo Expo noi dobbiamo pensare che la vera scommessa non è immaginare a delle volumetrie astratte, ma lavorare per un progetto di grande qualità che lasci alla città, ma non soltanto alla città, un segno importante, ma che rappresenti per la città, ma per la ragione intera, motivo di altra occupazione, di investimento, luogo di mercato e di economia. Varie sono le proposte che sono arrivate, il dibattito è assolutamente ancora aperto, ma la grande scommessa che noi abbiamo sul dopo Expo è quello di pensare che quello è un sito che deve diventare la porta per una serie di attività di grande importanza, che possono essere lo sport, possono essere le nuove tecnologie, possono essere tante altre attività di rilevanza, ma che devono vedere nel dopo Expo un polo, un polo di riferimento per tutti coloro i quali vengono a Milano, per coloro i quali vivono a Milano e per tutti i riferimenti che Milano ha oggi anche a livello nazionale. Quindi io penso che anche il dopo Expo possa diventare veramente volano di nuove attività imprenditoriali e quindi incremento dell'occupazione. Non da ultimo va considerata quanto questo evento, ma questo è un po' il tema dell'evento stesso che l'ha portato, sta sostenendo e rafforzando l'agricoltura. L'agricoltura nazionale, l'agricoltura lombarda, l'agricoltura milanese. Si è parlato del ruolo stamattina dell'agricoltura lombarda, Milano è la seconda città agricola italiana. Con una capacità di organizzazione, con una capacità di risposta straordinaria, poco conosciuta, Expo ci sta consentendo di mettere in rete queste capacità, di produrre e accelerare momenti di riqualificazione territoriale, penso ad esempio alle cascine, ma anche di pensare che possa esistere proprio una connotazione, una identificazione sia dal punto di vista della produzione che della commercializzazione della realtà agricola italiana. E anche in questo senso questo oggi è un settore dove ci sono molte occasioni di lavoro, dirette e indirette. E su questo, sia per Expo in quanto tale che in quello che noi pensiamo debba essere il grande progetto cittadino, ma non solo cittadino, cioè il cosiddetto fuori Expo, per questo stiamo lavorando. Ecco, io credo che la vera grande opportunità, noi l'abbiamo, se riusciamo ad investire Milano, tutte le altre città coinvolte, la regione e la provincia su un grande fuori Expo, un grande fuori Expo che sono attività di preparazione, ma sono anche tutte quelle attività di contorno che ci permetteranno di vivere e di sostenere Expo, perché Expo senza delle attività economiche forte, che ripeto non riguardano soltanto il turismo, la capacità dell'accoglienza, ma riguardano anche la capacità di fornire trasporti, di fornire servizi, la capacità di consentire a chi viene a Milano per Expo di spostarsi nel territorio regionale o nel territorio nazionale per avere anche altri momenti di occasione e di conoscenza. Ecco, questo è il vero motore economico su cui tutti dobbiamo lavorare e su cui noi stiamo lavorando. Siamo molto fieri della rete di comuni che si sta creando, è nata intorno alle esigenze del turismo, ma oggi si sta formando e sta lavorando proprio per costruire in qualche modo un'occasione di offerta, di conoscenza e di attività delle proprie eccellenze su tutto il territorio nazionale. Ripeto, per fare in modo che tutti i colori che vengano ad Expo non solo in qualche modo apprezzino Milano e la Lombardia, ma capiscono che l'Italia può essere una grande occasione di investimento, una grande occasione di attività economiche, di produttività e quindi di lavoro. In questo senso stiamo andando e noi siamo piuttosto oggi Expo-ottimisti. Grazie. Un applauso. No, no, è necessario. Ma io, visto la platea, perché poi lei deve scappare, quindi faccio subito una domanda io, visto la platea che tendenzialmente è formata da progettisti, progettisti che si occupano, diciamo, trasversalmente nel mondo dell'edilizia, il suo ottimismo è dato che poi uno del sottotitolo di questo evento è Opportunità di lavoro, lei l'ha più sottolineato più volte, e volevo capire, cioè, probabilmente la platea vorrebbe sentirsi dire se io sono oggi un architetto milanese, se in qualche modo posso sperare in un momento che comunque è innegabile, no? Che il settore dell'edilizia sta attraversando un periodo molto difficile, se comunque, nella visione che lei ha presentato oggi, molto allargata, quindi non solo, voglio dire, il bando di realizzazione di un padiglione, ma tutto quello che lei oggi ha in modo molto puntuale rappresentato, possa appunto dare dello sviluppo lavorativo in un momento difficile come questo, anche a un target di professionisti che sono architetti, ingegneri, geometri, che oggi partecipano a questo convegno. Allora, sicuramente siamo partiti col piede sbagliato, perché poi gli errori bisogna riconoscerli, noi quindi abbiamo dato la sensazione, mi ci metto dentro anch'io, anche se in fondo sono un soggetto che poi non ha gestito in prima persona, però abbiamo dato la sensazione di un'expo un po' chiuso, di un'expo che non è stato capace di mettere in campo tutte le professionalità e le progettualità di cui siamo capaci dal punto di vista professionale. Mi sembra che siano stati fatti dei grandi passi avanti, anche attraverso i concorsi, ci sono stati tutta una serie di occasioni importanti, una, l'ultima, forse diciamo quella dal punto di vista architettono più importante, l'Infopoint che stiamo realizzando a Milano. Però il settore sta sicuramente attraversando, è attraversato un momento di grande difficoltà e non possiamo pensare che è Expo da solo, però se noi pensiamo a prepararci ad Expo e pensiamo anche ad accompagnare Expo verso un dopo Expo e quindi di utilizzare Expo per essere una città diversa, una città che in qualche modo si guarda dentro, riconosce i propri errori del passato ma capisce dove oggi è possibile investire, noi pensiamo che oggi nel recupero dell'esistenza e nella rigenerazione abbiamo un patrimonio eccezionale che a mio parere, lo continuo a dire, può rimettere in moto le professionalità progettuali, le professionalità realizzative sotto diversi fronti, abbiamo bisogno naturalmente di far quadrato. Quindi quando si parla delle leggi speciali per Expo, delle regole, dobbiamo ricordarci che è molto importante che vengano anche introdotte, questo anche la Regione può essere un nostro interlocutore, norme che facilitino e che semplifichino il recupero del grande patrimonio esistente che comincia, ahimè, a sentire gli effetti di una crisi molto pesante, perché è stata una crisi molto pesante e che ha bisogno in qualche modo di nuove proposte. Ecco, io penso che se noi mettiamo la testa sulla riconversione dell'invenduto, sul sostegno dell'invenduto, su una valutazione di come sta cambiando l'offerta, sul recupero degli abbandoni, sulle vecchie realtà industriali, trovando delle modalità più celere, più snelle, più rispondenti all'offerta reale, possiamo mettere in moto anche tanta progettualità e anche tutta una serie di professionalità più giovani, meno consolidate, meno star e più capaci anche di fare delle proposte concrete. Ci sono delle domande? Mentre che vai su le faccio io un'altra. Perché noi abbiamo fatto la scorsa settimana due altri incontri come questo, uno qui a Milano e uno a Genova. E guarda caso i due temi erano, a Milano abbiamo parlato del protocollo LEAD, perché il protocollo LEAD nelle nuove nuove versioni presenta proprio il protocollo di certificazione degli historic building per edifici storici, perché tra l'altro con orgoglio l'Italia, nel Green Building Council mondiale, che è stato presentato l'anno scorso nella riunione a San Francisco, è stata demandata per studiare questo protocollo, perché ovviamente al cospetto degli americani noi abbiamo uno storico di edifici e una cultura anche del restauro, della riqualificazione che verrà esportata e sarà applicato poi in tutto il mondo. Quindi sicuramente questo ha conferma di quello che diceva lei, che la gestione del patrimonio edilizia esistente è la vera sfida dell'edilizia del futuro. E l'altro aspetto era che per esempio a Genova abbiamo parlato del tema della rigenerazione urbana, della riqualificazione. L'aspetto secondo me importante, vorrei cogliere con lei solo un flash su questo aspetto, è poi la gestione dei controlli. Perché la certificazione energetica, la cosiddetta classe A, il certificato venduto a 27 euro su Groupon ha fatto un po' saltare questa occasione di trasparenza verso il mercato. E quindi da questo punto di vista, visto che la scorsa settimana avevamo qui i rappresentanti del SACERT e del Cened, i dati che dicevo prima con lei stanno iniziando ad esserci i primi contenziosi anche sull'atto di vendita, diciamo non proprio così corrispettivo poi ai parametri certificati, deve essere sicuramente un aspetto puntuale per dare, voglio dire, la garanzia che poi effettivamente quando viene effettuato un intervento di riqualificazione, effettivamente è un intervento fatto con coscienza, fatto con professionalità e non svenduto. Perché poi questo purtroppo è una cosa che, voglio dire, porta della negatività. Sicuramente sono due questioni parallele importanti, intanto la certificazione LID è un obiettivo, noi in Italia in questo momento stiamo lavorando per garantire la classe A, però capendo che anche questo deve essere un obiettivo verso il quale si va, capendo che poi ci sia tutto un problema di costi, anche di costi di costruzione che vanno considerati. Nel nuovo nostro regolamento edilizio, su tutto il nuovo chiediamola, però è assolutamente importante quello che lei ha detto, cioè quello di spostare l'attenzione, diciamo, dalle procedure iniziali, sempre molto complesse e faticose, per cui poi spesso comportano modalità alternative, poco trasparenti, alla verifica effettiva. La verità appunto è che bisogna spostarlo, ed è quello che stiamo dicendo, bisogna spostare. Il problema non è, cioè tu puoi dichiarare autocertificare, ma il momento vero e reale è quello della verifica. Cioè bisogna fare in modo che, diciamo, alla certificazione corrisponda una verifica delle capacità e se a questa verifica non risponde quanto è stato dichiarato, è stato certificato, bisogna essere molto rigorosi. Uno spostamento necessario. L'Italia ha una grande criticità e il paese delle norme e dei vincoli incapace di gestire il sistema dei controlli in modo adeguato, in modo celere e soprattutto in modo opportuno. Ecco, questa è un'altra sfida. Noi nel nostro piccolo, ripeto, proprio in questo periodo con il regolamento edilizio stiamo tentando di farlo, certo è che più c'è collaborazione da parte di tutti i professionisti, sia degli operatori che dei professionisti progettisti, degli ordini, meglio è perché bisogna capire che la sostenibilità energetica, il raggiungimento degli obiettivi che poi l'Europa da qui a breve ci chiede in modo molto stringente, è un'opportunità. E' anche un'opportunità di lavoro. Bisogna smetterla di pensare che sia soltanto un vincolo. In un momento di crisi questo è difficile per una città, ad esempio, che deve fare anche case per i ceti medi o per l'edilizia sociale. Il costo, anche in qualche modo la sostabilità energetica deve essere considerato. Per quanto riguarda il recupero, il restauro dei beni storici, ecco, Milano sta facendo questa sperimentazione, cioè di aver messo un incentivo volumetrico per coloro i quali pensano di poter fare un intervento sui beni storici tutelati ad uso pubblico per la sostenibilità energetica. E' un incentivo volumetrico, naturalmente non può essere utilizzato in loco perché stiamo parlando di beni tutelati, ed è un modo per sostenere anche attività diciamo di restauro che coincidano e comunichino con la sostenibilità energetica. Perché anche il tanto patrimonio pubblico tutelato ad uso pubblico che abbiamo è giusto che venga non solo restaurato e recuperato ma anche rinnovato sotto il profilo delle prestazioni energetiche. Poi c'è tutto il problema che riguarda invece il patrimonio pubblico in termini di case e in termini diciamo di strutture per pubblici e servizi, su cui è sicuramente necessario, che lo stiamo facendo anche qui insieme alla regione, un rinnovamento e lì però il problema delle risorse e delle difficoltà economiche degli enti locali rischia veramente di frenare processi e procedimenti di rinnovamento. Grazie. Volevo chiedere semplicemente, lei ha parlato del forum di Expo, ci può indicarci qualcosa di più su un'organizzazione o su un ente o dove trovare l'informazione? Allora da qui a breve ci saranno tutte le informazioni, però sicuramente noi creeremo una serie, allora preso diciamo l'assessorato alla cultura ci sarà un programma di interventi ed eventi fuori Expo legati alla cultura, lo stesso sarà fatto per l'agricoltura milanese, noi stiamo organizzando una serie di itinerari, occasioni e momenti diciamo così di incontro nell'ambito delle aree agricole milanesi e del Parco Sud, anche per questo stiamo predisponendo delle mappe e predisponeremo dei programmi. L'ufficio del turismo e dell'informazione milanese che fa capo all'ufficio dell'assessorato del commercio si sta organizzando non solo per avere dei posti e dei luoghi ma anche per mettere insieme i programmi che da qui a metà del 2014 dovrebbero essere pronti. Alcune si tratterà di iniziative diciamo pre-Expo, altre di iniziative nella città che in qualche modo accompagneranno Expo. Con la rete dei sindaci metteremo anche insieme proprio per quei giorni, sono sei mesi, per quei mesi la possibilità di itinerari che vedano l'arrivo a Milano, una serie di attività di conoscenza del sito, di quello che succede nei rintorni di Milano e la possibilità di continuare in altre città. Oppure pacchetti, l'arrivo in altre città per tutta un'altra serie di iniziative che poi si chiudono con Expo e Milano offrirà a sua volta delle attività. Ci stiamo lavorando in questi giorni, in questo periodo, ma entro la prima metà del 2014 contiamo di essere pronti dal punto di vista delle informazioni. Non è uno spettacolo che si chiude ma probabilmente se ne apre uno nuovo. Volevo capire un attimo più concretamente come può rimanere questo come patrimonio per il futuro, nel senso che sentendone parlare così sembra quasi che si parli di una macchina che una volta avviata possa andare avanti e vivere di moto perpetuo, che non è possibile naturalmente. Poi sempre ricollegandomi a questo, una seconda domanda a cui avete già risposto in parte dopo la prima sollecitazione, cioè magari meno direttamente da un coinvolgimento dei professionisti privati, ma un coinvolgimento del privato, nel senso che esiste una forma di sinergia tra la pubblica amministrazione e l'attività privata, perché poi è quello il motore che può portare il lavoro, le attività, i professionisti, alle aziende, alle imprese, agli artigiani, eccetera. Cioè esiste già un sistema di supporto da parte della pubblica amministrazione al privato in ambito Expo che non sia solo rimandato alla legislazione nazionale, nel senso che prima aveva fatto riferimento al recupero del patrimonio architettonico in disuso, eccetera, che verrà rivalorizzato passando dalla legislazione nazionale. Se non ho capito male, però probabilmente qualche cosa di più diretto a livello locale, quindi non solo comunale ma regionale, perché abbiamo parlato di area estesa, che però sia più orientato alla realtà di chi si sta preparando a Expo, di chi accompagnerà Expo e di chi sarà poi sul territorio dopo Expo con le proprie attività, con i propri alberghi, i propri ristoranti, i propri negozi, le proprie ditte. Grazie. Allora, che cosa si sta facendo per Pox Expo? Ve lo racconteranno poi nel dettaglio. Quello che è una macchina, è una macchina che è iniziata, è una macchina che continua a camminare e che poi esprimerà altro. Quindi è una macchina che oggi lavora per l'organizzazione del grande evento e che contestualmente lavora per capire che cosa ci sarà nel post-evento. E quindi non è una questione di moto perpetua, è una questione di dare a quel luogo una sua identità oggi, che dobbiamo organizzare il grande momento e quel periodo, è un'identità più definitiva per il futuro. E dentro quell'identità c'è la volontà di fare in modo che quell'area diventi un'occasione, un'occasione di attività, un'occasione anche di qualità e un'occasione di ulteriori investimenti che inevitabilmente coinvolgeranno anche gli operatori privati. Io non ho detto prima, rispetto, che la rigenerazione è sicuramente la grande occasione. Oggi nel Comune di Milano abbiamo tantissime norme che ci consentono di lavorare sulla rigenerazione e ci stiamo già lavorando. Il rapporto fra pubblico e privato in questo momento è sicuramente un rapporto positivo, anzi in un momento, ripeto, di poche risorse è sicuramente anche molto, come dire, considerato e valutato. Le norme ci sono, le norme che oggi ci sono aiutano e permettono. Quello che dicevo è che a fronte di un momento di criticità, quale è quello che stiamo vivendo, alcuni interventi normativi e di carattere generale che aiutano e incentivano verso la rigenerazione e il recupero del patrimonio esistente, ad esempio per quanto riguarda la sostenibilità energetica, sono ben graditi, ma questo non si viene, noi stiamo a guardare, noi stiamo per approvare un regolamento edilizio che, le ripeto, ha in sé tutta una serie di incentivi a fronte non solo della sostenibilità energetica e dei massimi livelli, ma anche appunto per una serie di interventi di recupero. Per facilitare l'intervento, ad esempio, dei professionisti e non solo degli laboratori, è stata introdotta l'idea dei concorsi anche per le opere private, cioè ci sono tutta una serie di strumenti che l'amministrazione comunale, che non è un ente normativo ma regolamentare, si sta dando. Con questi strumenti possiamo lavorare, penso che si possa fare di più. Quello che io credo, ma lo credo anche all'assessore all'urbanistica, è che il futuro per quanto riguarda il territorio è la rigenerazione di un grande patrimonio esistente. Le città sono, soprattutto le grandi città, città datate, città che hanno bisogno di essere rinnovate e quindi c'è bisogno di un progetto, perché andiamo anche a incidere su interessi privati, sulle capacità economiche di chi può, in qualche modo, mettere il proprio patrimonio a disposizione per essere recuperato. Quindi non è che rinviamo, noi siamo pronti, il nostro lo facciamo. Pensiamo che Expo possa essere l'occasione per sperimentare in una città come Milano anche norme che riguardano la rigenerazione e la cura della città. Nonostante che la credibilità delle istituzioni sia scesa al 6% nei confronti della società civile, io non nascondo che ho una particolare simpatia per lei come assessore per quello che è riuscito a fare in questi mesi a Milano e quindi non è un fatto legato all'assessorato del Comune. Ma non ci dormo di notte, c'è una discrasia notevole tra l'impostazione strategica generale, tra la filosofia della pianificazione territoriale legata all'impostazione dell'Expo 2015 che è stata ben studiata, variegata in tutti i suoi aspetti, comune, provincia e regione eccetera, però dall'altro canto ci sono degli elementi che io che ho vissuto tre anni a Bruxelles lavorando trovo che la situazione italica non è europea e mi spiego meglio. Come mai abbiamo tutte queste grandi esposizioni, queste grandi valutazioni, queste grandi situazioni, poi quando arriviamo al concreto, ad esempio studi di ingegneria e di architettura, come fanno a correlarsi con le istituzioni e con chi è preposto alla esecuzione quando c'è una grande area grigia tra quello che dice la istituzione come aspetto istituzionale in se stesso e dall'altra parte la esecutività. Io non riesco a capire, faccio un esempio plateale, io mi interesso di sicurezza, ho fatto il teatro degli Accimboldi, ho fatto tutta la Pirelli Bicocca completamente, sono stato unico rappresentante dell'Olimpia di 2006 a Torino, non riesco a trovare un solo soggetto con cui riferirmi per fare la sicurezza dell'Expo 2015 a Milano. C'è un grosso nebbione, una grossa incertezza al punto tale che non mi sento neanche più milanese né esecutivo come dovrei essere, perché in realtà chi è preposto e le istituzioni non danno una risposta certa tra le loro progettualità, le loro definizioni e dall'altra parte la loro esecutività, ma chi deve fare queste esecutività. Ad esempio il conflitto Milano-Roma non mi pare molto brillante in questo momento, a parte che sono anche un amico di Maurizio Lupi, ma non capisco questa dicotomia che c'è tra Roma e Milano e non dico un dirissidio, ma comune, provincia, regione e Stato non sono correlati completamente al 100% sull'Expo 2015, perché ci sono delle valutazioni uniformi. Ma questo lasciamo alla parte. In concreto io dico tra la definizione progettuale, tra la gestione della filosofia dell'Expo 2015 da una parte e dall'altra però fare i progetti, darsi da fare, muoversi, muovere gli ingegneri e gli architetti su condizioni concrete. A chi ci rivolgiamo? Cosa facciamo? Mitropolitana Milanese, iniziative Lombarde e altro, non c'è nessun elemento, si ha quasi l'impressione che ci sia un muro di nebbia costruito artatamente, perché in Italia le condizioni sono molto legate a condizioni molto precise, molto anomale, ma la grande realtà, la grande ufficialità a livello europeo non è mai esposta. Vogliamo una volta tanto essere più europei, meno legati al particolare e dare a tutti la possibilità di dare un qualcosa per l'Expo? Grazie. Allora, intanto Costume vuole che qui non c'è il soggetto interessato. Expo è un soggetto, quindi io sono il comune di Milano, parlo per quanto, per la mia, per un pezzetto, però Expo è una società, ha un suo amministratore delegato, ha delle sue regole, quindi c'è un convitato di pietra e credo che queste domande bisognerebbe comunque fare in modo che il soggetto possa rispondere direttamente. Però non mi tiro indietro. Allora, innanzitutto penso che non ci sia in realtà oggi più nessuna conflittualità. Gli enti oggi vanno dritti verso l'obiettivo, le posso assicurare, con una grande comunicazione anche con Roma. Io e il Ministro Lupi siamo come il noto di due parti politiche diverse, le posso assicurare che abbiamo fatto il percorso, il tragitto per l'approvazione della progettualità delle metropolitane in un modo raro, ve lo dico in un modo veramente raro, di capacità di comprensione, di ascolto e abbiamo lavorato all'obiettivo, nell'interesse della città, nell'interesse di chi quell'opera ha bisogno di averla e di realizzarla. Quindi a differenza di quello che c'è stato sicuramente in un primo momento, oggi oggettivamente le cose stanno cambiando. Abbiamo delle opinioni diverse evidentemente, ma diciamo su molte cose di carattere generale. Non abbiamo un'opinione diversa su come lavorare e su come andare avanti oggi per quanto riguarda Expo in quanto tale e per il dopo Expo. Questo le posso dare la certezza. Per quanto riguarda le norme di sicurezza, ma guardi io credo, è vero, l'ho detto prima, però oggi è tutto fatto attraverso gara pubblica, gara intermedia. Sono tantissime, tantissime le imprese italiane e lombarde che stanno lavorando, e non solo lombarde, ma il territorio nazionale che stanno lavorando per occasioni connesse ad Expo. Abbiamo fatto un protocollo pubblico, mi scusi, con tutti i soggetti per la garanzia della sicurezza. Quindi su questo non credo che ci sia assolutamente alcuna nebbia. Basta andare a vedere, basta le gare pubbliche sono pubblicate nei bollettini e bisogna partecipare nella competizione, che oggi è tanta, alle competizioni pubbliche. Ce ne sono tante, ce ne sarebbero potute essere di più. Siamo arrivati tardi, c'è stato un primo momento in cui molto probabilmente non è stato abbastanza aperto e abbastanza comunicato. Proprio le dichiarazioni di interesse sul post Expo. A tal punto abbiamo voluto essere aperti, e questa è un'iniziativa che il Comune di Milano ha fortemente voluto, che ancora prima di chiudere un disegno, una prima proposta per il post Expo, abbiamo ritenuto di aprire alla progettualità, all'idea, al pensiero, in modo peraltro molto snello. Ed è stato aperto un bando per dichiarazioni di interesse per più di due mesi. E nonostante questo post Expo sta continuando a ricevere e vedere proposte. Ci sarà un ulteriore bando pubblico. Per quanto riguarda Milano, tutte le iniziative che stiamo facendo, le stiamo facendo attraverso, l'amministrazione è obbligata, l'evidenza pubblica. Ecco, io non credo, mi scusi, che in nessuno di questi atti ci sia nebbia. Abbiamo cercato di mettere in gioco nuove professionalità, professionalità più tradizionali, però abbiamo in questo momento, in campo, una quantità di gare e di opportunità che non mi pare rappresenti una nebbia. Forse poco, certo, poi ci sono una serie di criticità legate al momento, però le posso assicurare, e non perché lo dice il nostro Presidente del Consiglio, che oggi non c'è città europea e non c'è città internazionale che non creda in Expo. Cioè anche gli Expo scettici, alcuni paesi, alcuni rappresentanti Expo scettici, oggi non c'è nessuno che non creda che l'Italia si sta attrezzando per lavorare ad Expo. Le dico di più, l'Italia grazie ad Expo, oggi in particolare Milano, sta diventando di nuovo un luogo di interesse e di investimento. E questa è un'opportunità unica che non possiamo perdere guardandoci indietro. Se lei mi chiede abbiamo fatto degli errori, ed uso il plurale, lei sa da quando io sono qua, sì, molto probabilmente sono stati fatti degli errori e molto probabilmente alcuni ne abbiamo fatti noi, ma quello su cui io credo invece che oggi non ci possa essere alcun dubbio è che c'è un'assoluta volontà di trasparenza. C'è anche la necessità di correre, però in questa corsa, guardi, che i soggetti in gioco oggi sono tantissimi e chi veramente ha voglia di contribuire lo può fare. Certo, mi rendo conto, non tutti potranno contribuire nella immensa realizzazione del progetto più importante, ma ci sono molte e molte opportunità che stanno man mano maturando e che possono vedere tutti i soggetti con professionalità nella competizione e in un mondo in cui le professioni oggi sono rappresentate in numero notevole. Bene, abbiamo ancora solo una domanda forse? Sì, arriva, 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 perché poi lasciamo andare, abbiamo anche poi l'altro contributo, se no... Sono orgogliose di aver... No, ma si sente la sua passione, guardi, mi piace tantissimo, quindi è molto bello il confronto. Sì, molto velocemente anche perché parzialmente ha risposto, poi rispetto alle domande anche sono state fatte precedentemente, secondo me il tema è quello in qualche modo della sinergia e della possibilità come città, non soltanto come categoria specifica di architetti o ingegneri, ma credo anche di cittadini, di poter partecipare a questo evento Expo, ma in modo preliminare, non a giochi fatti, come dire. Lei ha parlato di tante iniziative, lei dice stiamo lavorando, stiamo organizzando dei percorsi, stiamo lavorando a livello culturale con altri comuni e altre cose, ma se un cittadino volesse partecipare a questo, qual è il rischio che tutti questi lavori vengano in qualche modo sempre gestiti dai soliti esponenti anche soltanto culturali magari, che certamente non è detto che non debbano fare bene, però voglio dire le sinergie e le risorse di una città possono anche essere in altri ambiti che fanno fatica ad arrivare ad accedere. Ecco, io ho un po' la sensazione che questa piattaforma molto democratica e molto libera in qualche modo manchi. Se noi abbiamo delle idee, qual è l'interlocutore con cui possiamo? Non è detto che siano idee intelligenti magari, però sarebbe opportuno che magari venissero in qualche modo convogliate verso chi ha la possibilità di quantomeno giudicarle. Allora, intanto le dico, la dichiarazione di interesse per il post-expo è stato il grande contenitore delle idee. Per due mesi e mezzo abbiamo chiesto a chiunque, non abbiamo chiesto neanche delle grandi capacità, diciamo, professionali di origine. Abbiamo detto diteci qual è la vostra idea, il vostro disegno, proprio per metterle tutte insieme. Poi certo, queste cose verranno messe insieme, bisognerà vedere anche qual è la sostenibilità finanziaria e si cercherà di seguire quella che è in qualche modo l'onda, la direzione, prendendo il meglio di tutte le idee e anche di tutte le proposte. Però ci sono poi delle altre piattaforme. Se io penso al terzo settore, adesso si è avviata la ristrutturazione della Cascina Triuzza. Quella è un'occasione molto importante, tutte le associazioni di volontariato, tutte le associazioni di terzo settore si stanno mettendo in discussione per fare delle proposte per poter utilizzare quel luogo come il luogo del terzo settore, del volontariato per Expo. Allora lì i riferimenti sono, cioè è quel progetto lì e c'è un riferimento chiaro. Per quanto riguarda noi, come dire, c'è un luogo che adesso peraltro realizzeremo, che sarà catalizzatore di tutte le proposte. Poi naturalmente ci sono delle proposte più sostenibili e meno sostenibili, però ad esempio il fuorisalone già è un primo luogo dove noi abbiamo imparato e siamo capaci di mettere insieme tutte le proposte. C'è nell'ambito tra l'assessorato all'ocultura e l'assessorato al design un posto che oggi è abilitato, lo trova peraltro, lo individuiamo nell'ambito del sito comunale, abilitato a prendere tutte le proposte che riguardano ad esempio il fuorisalone e così sarà anche per il fuori Expo. Siamo oggi molto concentrati sulla realizzazione dell'intervento, una cosa non posso non riconoscere, cioè Expo era fatta, cioè la struttura lì Expo era fatta, anche quando sono arrivata io era fatta. Però io non sono una morbida ma so che nella vita si fanno le battaglie che si vincono. Era fatta, se dovevamo ricominciare da capo significava non farla. Allora Expo è fatta dal punto di vista, adesso bisogna cercare di farla andare al meglio. Però se noi pensiamo a tutte le attività di informazione, di recupero della città che possono essere anche solo come occasioni culturali legato al nuovo progetto d'Arsena. Ecco, cioè si sarà fra pochi mesi un info point sulla d'Arsena che ci permetterà non solo di essere aggiornati sul progetto ma ci permetterà anche di proporre delle iniziative da fare lì, connesse all'acqua o anche per tutta una serie di interventi di recupero di miglioramento per tutto il percorso della d'Arsena. Quindi ci sono tutta una serie di cose che iniziano e pian piano inizierà la comunicazione e ci saranno i punti di riferimento. Certo, bisogna avere un po' il coraggio anche di mettersi in gioco. Poi sicuramente qualcuno rimarrà escluso, sicuramente c'è un soggetto che decide, d'altra parte poi alla fine bisognerà decidere. Però ripeto, oggi mi sembra, se io penso a qual è stato il percorso che stiamo facendo faticosamente per la d'Arsena, proprio per la d'Arsena, per il progetto d'Arsena e come lo abbiamo, tra virgolette, migliorato e aggiornato proprio secondo le esigenze del territorio e lo sforzo che stiamo facendo per comunicare l'abbio del cantiere, io penso che questo sia già una cosa molto molto importante. Poi ci saranno tante altre occasioni, cioè Milano non faceva concorsi da anni, ne ha già fatto uno, ne sta per mettere in cantiere un altro, ne farà altri tre e sono molti, uno a molti sono concorsi di progettazione, altri sono concorsi di gestione e facciamo ogni mese tanti bandi per offrire dei luoghi e per avere dei progetti sui luoghi pubblici. Abbiamo finito adesso la mappatura dei luoghi abbandonati privati, degli abbandonati pubblici perché vogliamo mettere in discussione tutti i nostri luoghi pubblici. Cioè abbiamo le nostre ventezze, le nostre rigidità, però le assicuro che come città ci stiamo veramente, ce la stiamo mettendo a tutto per fare in modo di essere insieme a costruire una Milano che deve essere diversa non solo per Expo ma anche per Expo.